Un progetto di ricerca promosso dal Servizio Nazionale per l'edilizia di culto della CEI, la conferenza episcopale italiana e pubblicata anche sul web. Ora è anche un volume lo studio condotto dall'architetto Andrea Longhi del Politecnico di Torino che ricostruisce la storia dell'architettura di 30 chiese parrocchiali edificate in Italia negli anni del Concilio Vaticano II fino ad oggi. Il tour che in tutta Italia vede la presentazione del prezioso lavoro culturale e tecnico ha fatto tappa anche a Foligno grazie all'iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno che nella sua sede di Palazzo Cattani ha organizzato un partecipato incontro con il patrocinio di Comune di Ocesi. I casi proposti dal volume di Longhi non costituiscono modelli ma occasioni per proporre un particolare approccio metodologico di analisi. Storie appunto vengono definite così. L'architettura dei complessi parrocchiali è infatti il prodotto delle motivazioni delle committenze. Esprime la comunità locale è l'esito di un complesso processo di ideazione e di coordinamento tra problematiche tecniche e istanze artistiche e liturgiche. Alla realizzazione seguono trasformazioni successive in un processo dinamico e mai concluso. La ricerca ha cercato di toccare tanti tipi di paesaggi italiani. Noi associamo di solito le chiese contemporanee alle grandi periferie industriali, ai soborghi di Milano, di Roma, di Bologna, di Torino. Ma in realtà il fenomeno dell'architettura contemporanea di chiese è anche storie di borghi, di villaggi, di campagne. Nella storia italiana del dopoguerra le campagne hanno vissuto una fase di radicali trasformazioni sociali e la chiesa non è rimasta estranea, non è rimasta a guardare. Il caso che presentiamo nel volume della chiesa di Limiti, che è una frazione di Spello, dimostra come anche in un contesto paesaggistico e storico come quello Umbro, che certo ha molto da dire alla storia dell'arte e dell'architettura cristiana, può essere ancora oggetto di ricerca, può essere ancora oggetto di sperimentazione con una grande cautela, un garbo, un equilibrio, un rispetto del paesaggio circostante. Tra gli edifici indagati nel volume è presente a pieno titolo anche la chiesa di Santa Croce in località Limiti di Spello, progettata dall'architetto Folignate Franco Antonelli, nato nel 1929 e scomparso nel 94, motivo in più per stimolare l'iniziativa della fondazione. Un'importanza fondamentale. Per quanto riguarda tra l'altro noi Foligno c'è anche un rapporto sentimentale, in quanto in questa pubblicazione, che è una pubblicazione di tutte le chiese, ve ne è una progettata, costruita da un architetto Folignate, l'architetto Antonelli. Quindi siamo particolarmente orgogliosi. L'architetto Antonelli ne ha fatte molte ricostruzioni di questo tipo, mi pare che solo a Foligno ne ha fatte cinque. Questa è particolarmente significativa e siamo orgogliosi di ospitare la presentazione di un libro che raccoglie le più belle chiese del dopo concilio e fra queste c'è quella di un architetto Folignate, l'architetto Antonelli. Un architetto legato sia alle radici culturali della propria terra, sia alle istanze di rinnovamento conciliare, lo definisce nel suo volume Longhi, dall'incontro tra la comunità religiosa, la popolazione locale e l'architetto, emerge un'interpretazione semplice ma colta del secolare messaggio di spiritualità Umbro aggiornato, secondo lo spirito del concilio. La presentazione del libro ha rappresentato anche l'occasione per ricordare proprio la figura professionale e umana dell'architetto Antonelli e per lanciare un'ulteriore iniziativa, la mostra che verrà allestita in autunno per celebrare la sua opera di architetto. All'incontro, moderato dalla professoressa Rita Fanelli Marini, hanno partecipato tra gli altri anche il Vescovo di Spoleto e Presidente della Conferenza Episcopale Umbra Monsignor Boccardo e Valerio Pennasso, direttore dell'Ufficio Nazionale per i Beni Culturali e Ecclesastici della CEI, che ha rimarcato l'importanza di questo studio per il particolare periodo storico in cui si inseriscono le realizzazioni di cui si parla. Le chiese fanno riferimento al costruito di questi ultimi 40-50 anni. A seguito della riforma liturgica del Vaticano II, la ricerca va a testimoniare incontri e racconti delle comunità che hanno voluto, cercato e realizzato gli edifici, cercando di recuperare tutti quegli aspetti anche di progettazione di cantiere, di incontri preliminari, di attività poi di manutenzione fino alla trasformazione degli edifici originali adattandoli alle esigenze della popolazione e della gente di oggi. In dubbio ha dichiarato lo stesso Pennasso l'importanza di una ricostruzione di questo spessore, così come dell'impegno di istituzioni come la Fondazione, Cassa di Risparmio e di Foligno, a divulgarne la conoscenza. Raccontare la storia attraverso un'indagine che dura 4 anni mi pare che sia fuori di dubbio che è un passaggio veramente importante. Dal punto di vista della ricaduta di una ricerca di questo genere penso che sia la consapevolezza che le costruzioni, le progettazioni e gli edifici non sono a mero appannaggio dell'architetto, non sono a mero appannaggio delle comunità che le hanno commissionate ma che si estendono nel tempo e necessitano della cura delle persone di oggi ma anche di sempre.